E domani, sempre sabato 20 luglio alle 17.30, verrà inaugurata presso gli splendidi spazi di Casa dei Gentili a San Zeno la mostra intitolata Zanoni, l'età del ferro, le opere di Luciano e Ivan Zanoni dialogano con la storia da Naunia. Un percorso espositivo dedicato a Luciano e al figlio Ivan, fabbri scultori di Caldessa, al recupero delle suggestioni del passato che rappresentano oggi uno stimolo incessante per la creatività. Il Centro Culturale di Naunia inaugura la propria nuova attività proprio con una mostra che indaga il fervore di due artisti che da sempre umilmente amano definirsi artigiani del ferro, due autori che in persona rappresentano l'affascinante processo antico quanto all'uomo di trasmissione del sapere di padre in figlio. Il percorso espositivo organizzato nei spazi di Casa dei Gentili interagisce con il territorio attraverso una sezione espositiva dislocata in uno dei siti di maggiore importanza per la storia della Val di Naun quale il Museo Retico di San Zeno.